Assessore Lancia, nell'ambito dell'anno giubilare arriva il cortile di Celestino. Di cosa si tratta? Si tratta insomma del cartellone che in collaborazione con la Curia abbiamo pensato una serie di appuntamenti con cadenza mensile a partire da marzo fino a giugno che ripropongono sotto vari registri una riflessione sul perdono e quindi su questo messaggio importante e universale della perdonanza. A molti gli ospiti da Don Alberto Ravagnani, Don Ambrogio Mazzai ma anche la signora Gemma Calabresi che è la vedova del commissario Calabresi che nel suo bellissimo libro ha raccontato una straordinaria storia di perdono ma cominciamo subito venerdì 24 all'auditorium del parco con una lettura ad Antis. Contiamo di dare così il nostro contributo al messaggio della perdonanza che deve uscire fuori dai confini aquilani come già è avvenuto con la presenza di Papo Francesco lo scorso agosto. Se tutto andrà come dovrà andare il cortile di Celestino Cunto potrà essere nella settimana importante della perdonanza un altro momento fisso di confronto. Questo è un modo ulteriore che stiamo provando per lavorare sul turismo religioso e sulla necessità di diffondere sempre di più questo messaggio della perdonanza che per se stesso è comunque universale. Don Federico nell'anno giubilare era giusto naturalmente declinare il concetto del perdono durante tutta la durata di questo grande evento? Sì, il perdono va diciamo così va metabolizzato, va digerito quindi non è semplicemente uno slogan ma qualcosa che va accolto e alla fine il cuore del Vangelo va accolto e quindi va fatto in modo che possa toccare diciamo così tutte le fibre della persona e così riversarsi poi positivamente anche a livello sociale perché una persona che ha fatto esperienza del perdono sta nelle relazioni in maniera diversa rispetto agli altri quindi ecco l'auspicio, la speranza e anche l'impegno è fare in modo che in questo anno giubilare possiamo fare il possibile ecco e forse anche di più per contribuire a tutto questo. Ecco, fino ad ora come sta andando quest'anno giubilare per la diocesi? Allora l'anno giubilare fino ad adesso tenendo conto che diciamo la prima parte dell'anno è stata anche un po' l'inverno però si è cominciato con dei pellegrinaggi che hanno riguardato le zone della diocesi che sono chiamate foranie quindi forania per forania ci si è trovati tendenzialmente una domenica al mese per questo momento a Colle Maggio che è previsto una celebrazione peritenziale e poi la Santa Messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo, Cardinale Petrocchi e anche dal Vescovo Ausiliare appuntamenti più specifici sono stati poi fatti anche per insegnanti di religione cattolica, operatori pastorali c'è stato un grande pellegrinaggio degli universitari di Roma all'inizio dello scorso novembre ieri proprio abbiamo avuto il pellegrinaggio dei Cresimandi della diocesi che tra ragazzi e genitori erano circa un migliaio ed è stato un momento bello, intenso e ci prepariamo anche ad un altro appuntamento importante sempre riferito soprattutto, rivolto al mondo giovanile che sarà il prossimo 25 aprile con una giornata regionale dei giovani anche in preparazione al grande appuntamento di Lisbona quando nel prossimo agosto i giovani di tutto il mondo si incontreranno con Papa Francesco Grazie mille Grazie mille